video ricetta del riciclo sformatini di pandoro ingredienti 100 grammi di pandoro 180 ml di panna fresca 2 uova intere 100 grammi di zucchero un pizzico di sale per la guarnizione crema inglese e arancia candita tagliare a cubetti il pandoro avanzato e distribuirlo in una teglia rivestita di carta forno passarlo in forno caldo per alcuni minuti muovendo la metà cottura per farlo tostare dividere i cubetti di pandoro tostati in degli stampini monoporzioni in alluminio ben imburrati e infarinati per la crema inglese sbattere le uova intere con un pizzico di sale aggiungere poi lo zucchero e lavorare a crema ed infine incorporare anche la panna fresca dividere quindi la crema preparata nei sei pirottini in alluminio trasferire i pirottini in una crema in un'altra crema si tratta di una crema che si tratta di teglia e infornare gli sformatini a 180 gradi per circa 20 minuti. Terminata la cottura di questi dolcetti sfornarli, farli intiepidire e poi rovesciarli nei piatti avendo cura che la parte col pandoro resti sul fondo. Infine completare ogni sformatino irrorando con la crema inglese e delle julienne di arancia candita.